Amici un consiglio per voi per stare un po' sereno per la vostra salute per abbassare un po' la pressione questo conta per tutte le tifoserie di tutte le squadre non li ascoltiamo più quando parlano i calciatori aus chiudiamo il volume facciamoli parlare guardiamo le pettinature analizziamo altre cose ma non ascoltiamoli più perché sono come i politici parlano 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 poi finite le elezioni e fanno tutto il contrario perciò non li ascoltiamo più perché è sempre la stessa cosa i tifosi poi rimangono sempre male Lukaku che diceva sempre rimaneva in nera azzurro super felice baciava 128 volte la maglia nera azzurra davanti a tutti è andato via Romero che diceva sempre di rimanere in nera azzurro l'Atalanta bla 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 è andato al Tottenham parole di Zecco a fine luglio cioè non 3-4 mesi fa no a fine luglio oggi abbiamo 9 agosto sono stanco di sentire parlare di Zecco che va là o che va lì penso solo la Roma o nient'altro bello rivedere i miei tifosi bla 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 sempre la stessa roba adesso ed in Zecco è molto molto vicino all'Inter per la centesima volta ha chiesto l'accisione gli hanno accontentato perciò questo conta un po' in generale non ascoltiamo più ai giocatori perché sono tutte chiacchiere spesso ci sono i procuratori agenti che gli scrivono delle cose lo mettono sotto il tavolo e lo leggono amici non li ascoltiamo più perché sennò rimaniamo sempre delusi non ha senso allora amici innanzitutto scaricatevi OneFootball completamente gratis vi lascio il link in descrizione così restate sempre aggiornati sul mondo del calcio cosa fantastica ripeto gratis e vi porta tutte le notizie specialmente in questo momento molto caldo del calcio mercato c'è il Paris Saint Germain che adesso vogliono acquistare come me l'ha scritto anche un utente Lewis Hamilton per guidare il Pullman sono scatenati questi qui perciò ogni giorno nuove notizie OneFootball link in descrizione e in questo video adesso vi spiegherò un po' la mia opinione io Zecco ripeto lo seguo dalla Bundesliga ormai da tantissimi anni se oggi all'età di 35 anni lo repodo un giocatore forte un giocatore scarso un giocatore mediocre vi dico la mia opinione in questo video e poi aspetto anche la vostra opinione sotto i commenti perché l'Inter ovviamente si deve muovere Lukaku manca ancora l'ufficialità però sembra ovviamente tutto fatto non è neanche più giocato eccetera perciò l'Inter ha bisogno di nuovi attaccanti e oggi parliamo un po' di Zecco ragazzi che non è un carattere semplice questo c'è da dire febbraio 2021 gli hanno tolto addirittura la fascia da capitano lì si è già visto che si è rotto qualcosa eh amici siamo onesti fra Zecco e la società Roma aveva anche perso il posto titolare per poca majoral poi tra gennaio inizio maggio ogni tanto giocava ogni tanto stava in panchina ogni tanto sulla tribuna comunque non ha segnato neanche un gol ed è un lungo periodo per un attaccante dove non ha segnato neanche un gol dal 2015 da quando è arrivato alla Roma si può dire che ha litigato con tantissimi allenatori diversi tecnici lo hanno confermato c'è però anche da dire per difendere un po' Edin Cecco che ha vissuto anni non semplici a Roma eh non è una piazza semplice non è una piazza serena cambiati presidenti direttori sportivi cambia anche lì in continuazione tanti allenatori capitani diversi cioè non è un ambiente sereno dove tu puoi lavorare con continuità vediamo forse adesso lo sarà eh però fino adesso negli ultimi anni c'è stato tanto caos me l'hanno detto soprattutto i tifosi della Roma soprattutto con Spaletti ha spesso litigato però il grande però secondo me lì Cecco ha tirato fuori l'orgoglio proprio davanti alle critiche perché eh Spaletti spesso mandava queste frecciatine contro di lui anche in maniera pubblica e lui ha segnato trenta nove gol in una stagione record personale di Edin Cecco già gennaio 2021 parlando adesso un po' degli ultimi mesi la Roma non l'ha fatto più allenare con tutti i giocatori tantissimi eh allenamenti isolati individuali e non aveva problemi fisici perciò già secondo me lì hanno provato di trovare una nuova destinazione per lui non hanno concluso nulla c'è però da dire una mia opinione opinione personale quando Edin sente la fiducia può essere veramente forte io mi ricordo ovviamente gli anni d'oro in Bundesliga al Wolfsburg insieme con Grafic si amici forse una delle coppie adesso non voglio esagerare più forti della storia della Bundesliga e non è ovviamente l'Edin Cecco di oggi di trentacinque anni lì era una una cosa assurda insieme con Grafic una cosa veramente assurda andate un po' a vedere i video hanno proprio distrutto il Bayern umiliato il Bayern era veramente molto molto forte parlando della Roma io mi ricordo anche la stagione dove lui ha rifiutato o hanno rifiutato diciamo la successione al Chelsea e lì c'era veramente una sorta di legame tra Di Francesco e tra Edin Cecco perciò lui giocava sempre era sempre titolare era proprio al centro del gioco della Roma e qui ci ricordiamo i grandissimi risultati semifinale storica della Roma un piazzamento in Champions League un anno dopo in Serie A e Edin Cecco era proprio al centro di questo progetto oggi Edin ha trentacinque anni sotto la porta non è cattivo questo purtroppo non si può negare anche se uno è un grande fan di Edin Cecco non è freddissimo sotto la porta non è mai stato uno di questi fantasmi tipo Inzaghi che stanno in porta aspettano l'occasione poi la mettono dentro lui non è così però gli garantisce una bella porzione di fisicità mi è sempre piaciuto diciamo spalle alla porta quando si abbassa sulle tre quarti fa sempre salire la squadra dà sempre supporto alla squadra e di questo abbiamo bisogno perché Romeo Lukaku lo faceva sempre io mi ricordo spesso amici l'Inter sotto pressione non so Skrinha, De Vrij, Bastoni con la palla fra i piedi era spesso Lukaku il primo giocatore a ricevere la palla palla verticale su di lui e questo spesso ci aiutava tantissimo nei momenti veramente di pressione e poi c'erano subito questi automatismi che Martinez che sa molto bene allungare la difesa andava sempre subito in profondità e diciamo questo tipo di gioco si può anche fare con Edin Cecco che si abbassa sulle tre quarti dà sempre supporto alla squadra e poi ripeto Martinez che poi parte in profondità perciò alto 1,93 sempre anche un giocatore cercato con i cost abile anche di testa conosce molto bene il calcio italiano gioca ormai da sei anni in Italia perciò non dico adesso che mi metto ad essultare perché ovviamente non è più giovanissimo ed è molto calato negli ultimi anni Edin Cecco secondo me è molto calato però secondo me è un buon attaccante rimane comunque un buon attaccante che proprio per le caratteristiche che adesso ho descritto ci può ancora dare qualcosa perciò questo acquisto secondo me ci sta il grande però amici poco tempo fa quando c'era ancora Lukaku si parlava di Cecco come terza punta lì sarebbe stato tanta tanta roba invece come sostituto se gli danno la maglia numero 9 amici un grande calo di qualità perché ovviamente lui Edin Cecco a 35 anni non può fare quello che Lukaku faceva a 28 anni l'Inter soprattutto poi Lukaku molto più rapido che si può anche spostare sul centro destro nei contropiedi ovviamente sarebbe un calo di qualità perciò normalmente dovrebbe arrivare un'altra punta veramente forte per sostituire Lukaku però sarebbe un inizio sarebbe un inizio perciò io non sono contrario a questo acquisto anche se ripeto abbiamo bisogno assolutamente di qualcosa in più questo c'è assolutamente da dire le ultime voci che mi arrivano che l'Inter non abbia intenzione di cedere Lautaro Martinez c'era già tanto panico fra i tifosi mamma mia adesso l'effetto domino l'ho detto anch'io adesso partono tutti la società però anche questo io l'avevo detto io ho parlato più di un effetto domino psicologico ma la società secondo me non ha un interesse di vendere anche Lautaro Martinez però le offerte sono reali questo non lo possiamo negare non è che hanno mentito The Sun tutti i giornalisti in Inghilterra le offerte ci sono le cifre sono vere i contatti ci sono le conversazioni ci sono però secondo me c'erano sia offerte per Lautaro Martinez sia per Romelu Lukaku e alla fine l'Inter ha deciso a vendere Lukaku e questo secondo me è un errore fondamentale perché quello che era da vendere era Lautaro secondo me ci poteva sacrificare Lautaro Martinez e se fosse rimasto Hakimi e Lukaku io non avrei fatto neanche una critica neanche una critica che avrei detto vabbè abbiamo bisogno di soldi e dall'altra parte abbiamo una squadra super competitiva e Lautaro a me piace un buon giocatore ma non è un fuori classe non è un giocatore che non puoi più trovare tipo Lukaku uno come Lukaku faremo veramente molto molto fatica a trovarlo però c'è il grande però questo io adesso non lo posso sapere al 1000% ci sono tantissime voci che ripeto c'erano sia offerte per Lautaro sia offerte per Lukaku e Lukaku ha fatto capire la società che vuole andare via e questo necessariamente mi delude molto mi fa molto male al cuore e perciò la società poi ha deciso di mandare via il giocatore che non vuole rimanere se ci sono offerte per entrambi sportivamente calcissima mentre ripeto dovrebbe stato molto molto più intelligente vendere Lautaro purtroppo però è andata così amici purtroppo però è andata così poi è ovvio nel calcio può succedere tutto se fanno una cifra folle per Lautaro la società potrebbe anche venderlo lui ma secondo me non hanno in mente di farlo amici queste sono un po' le notizie di oggi 9 agosto può cambiare tutto in un secondo il calcio mercato è fatto così però lo sapete iscrivetevi al canale youtube perché se ci sono aggiornamenti ci sono subito i video io sono a disposizione amici vi voglio bene un fortissimo abbraccio ripeto iscrivetevi ai miei canali Giano Libertà e Giano Food un abbraccio a tutti sempre viva il calcio anche se il calcio purtroppo è sotto attacco